Con la salvezza in tasca la Fiorentina si prepara alla rivoluzione, rivoluzione su più fronti, da quello societario a quello dello staff tecnico a quello della squadra. Insomma Andrea Della Valle in occasione di Fiorentina Cagliari, ultima sfida della stagione ma insignificante per quanto riguarda la classifica, Andrea Della Valle dicevamo arriverà a Firenze per risolvere presto tutti i problemi relativi alla ricostruzione della squadra e della società Viola. Il direttore sportivo, tanti i candidati, tanti i colloqui fatti dal presidente della Fiorentina. I nomi buoni sembrano essere soprattutto due, l'ex dell'Inter Lele Oreali e il direttore sportivo del Chievo Giovanni Sartori. Più defilato l'omonaco del Catania, il quale però potrebbe essere, e si entra in questione relativa all'allenatore, importante per strappare Vincenzo Montella al Catania. Sì perché per quanto riguarda la panchina i Della Valle avrebbero in testa una scelta importante, magari un tecnico giovane sul quale puntare per le prossime 3-4 stagioni e il nome di Montella è sicuramente il primo nella lista. Poi ci sono altri due obiettivi da valutare. Si tratta di Donadoni, allenatore del Parma, che ha fatto cose meravigliose in questo finale di stagione ed è stato seguito con attenzione dai Della Valle, e ovviamente Luciano Spalletti, tecnico ambitissimo in Italia ma che ha un ingaggio mastodontico e soprattutto pretenderebbe una squadra in formato Champions. Già la squadra, ed è qui che arriva il primo nome nuovo di questa estate. Si tratta del giovane Verratti, giocatore del Pescara di Zeman che piace alla Fiorentina, anzi sul quale la Fiorentina avrebbe messo qualcosa in più che i semplici occhi. È un giocatore che potrebbe sostituire tranquillamente Montolivo, centrocampista interdittore al momento e centrocampista che può fare il regista puro, magari davanti alla difesa, nei momenti all'occorrenza. Insomma, con Verratti la Fiorentina potrebbe aver identificato il primo colpo di mercato molto importante. Basterà aspettare, basterà arrivare e vedere arrivare a Firenze il nuovo direttore sportivo e la Fiorentina, quella del futuro, prenderà finalmente corpo.